Che passo rappresenta la medicina integrata di gruppo per il quartiere del Piave? È un passaggio importantissimo e ringrazio i medici per aver accettato di aggregarsi. 12 medici che vuol dire una potenzialità infinita dal punto di vista anche del servizio agli utenti a questo quartiere. Ma intorno alla medicina di gruppo vuol dire costruire anche altre cose, la continuità assistenziale e soprattutto i poliambulatori che arriveranno da Fara di Soligo e andranno a completare quella che io chiamo sempre la Casa della Salute. Quindi un'opportunità importantissima per il quartiere del Piave. Il cittadino nel concreto troverà tutta una serie di servizi e avrà una risposta in un unico posto, in un unico luogo. Avrà la possibilità comunque di accedere alla struttura in modo tale da avere un contatto diretto col medico e comunque gli ambulatori periferici dei medici verranno mantenuti per cui non si creeranno disorientamenti da questo punto di vista. Nel giro di quest'anno noi andremo a portare e faremo i lavori, ovviamente metteremo a norma per l'antisismica e l'antincendio della struttura e poi faremo i lavori per gli ambulatori e i poliambulatori sostanzialmente. Quindi entro il 2019 porteremo a compimento il tutto. La giornata di oggi testimonia la presenza sul territorio della regione anche a partire dalla riforma di due anni fa della sanità del Veneto. Cosa rappresenta un passaggio come quello della medicina integrata di gruppo? Sono investimenti che continua a fare la regione non solo negli ospedali ma anche sul territorio. Questo ne è un esempio, 226 mila euro che sono stati destinati alla ristrutturazione di questi locali che erano uffici e che adesso invece diventano ambulatori. 5 ambulatori in cui si alterneranno 12 medici per garantire il servizio a 17 mila utenti dalle 8 di mattina alle 20 di sera. Cioè ogni cittadino sa che qui ci sarà sicuramente un medico ad aspettarlo in qualsiasi orario tra le 8 di mattina e le 20 di sera. Questo credo che sia un approccio importante perché garantisce il cittadino, sa che può esserci comunque una risposta già sul territorio senza dover andare quando l'ambulatorio del suo medico di base era chiuso per ovvi motivi in pronto soccorso. Quindi un ringraziamento intanto a tutti coloro che lavoreranno in questa struttura iniziale dei medici ma non solo, infermieri e gli amministrativi perché stanno garantendo un servizio migliore ai cittadini. Fra l'altro ricordo che di questi 12 medici ben 10 manterranno anche il presidio sul loro territorio ovviamente con orario non dalle 8 alle 20, però il cittadino sappia che c'è questo servizio in più sul territorio. Quindi credo che sia una risposta importante per i nostri cittadini e un ulteriore passo avanti della sanità del Veneto che comunque è considerata un riferimento a livello nazionale.